È una piazza che si colora di verde e di giallo, quello che la sera di domenica 2 ottobre a Gualdotadino celebra la chiusura della 44esima edizione dei Giochi delle Porte. Porta San Facondino vince il suo tredicesimo palio e brucia la bassola in segno di vittoria. Un trionfo arrivato al termine di un pomeriggio denso di emozioni, che ha visto primi posti e ribaltamenti in una serie di alterne vicende che hanno reso la disputa entusiasmante fino all'ultimo minuto. La prima gara ha visto imporsi alla guida della classifica parziale Porta San Donato, con il binomio Gustinucci e Scassellati su contrappasso, tallonati da Porta San Benedetto, che già dalla seconda gara si è imposta risalendo ai vertici della classifica. Dopo un interminabile spareggio per il primo posto tra Benedetto e Facondino, è stata la prima a imporsi con Samuele Berardi, che freddo fino all'ultimo tiro ha rotto tutti i piatti, anche delle più piccole misure. I giochi hanno raramente un percorso lineare e il 2022 non ha fatto difetto. La contesa per il palio è tornata in discussione al termine della gara con l'arco, quando uno dei volti storici di Porta San Facondino, Paolo Frillici, ha regalato un primo posto, che ha significato presentarsi alla gara a pelo, l'ultima, con una contesa a palio tra due uniche porte, Benedetto e Facondino. La gara a pelo per la cronaca la vince in splendida solitaria il fantino di Porta San Donato, Simone Collarini, ma i giallobianchi ormai sono fuori dalla lizza del palio. Facondino precede sul traguardo Benedetto, recupera così i punti di svantaggio, strappando il biglietto per una gara di spareggio valida per l'assegnazione del palio. La vinco dei gialloverdi e la festa esplode sulla piazza, l'ultima vittoria dei giochi per loro era del 2018. Commosso ed euforico, il priore Marco Gubbiotti prende in mano il palio dalla presidenza dei lente giochi, e lo condivide con i suoi portaioli per una festa che proseguirà per tutta la sera. Festa doppia perché in mattinata la giuria di storici aveva assegnato il premio corteo sempre a San Facondino, la migliore sul campo con il suo pellegrinaggio a Santiago di Compostela.